ragazzi siamo sempre noi cristian è qua con me più due piccolini questo quale è il solito posto che continua a dare e continua a dare veramente tanto comunque adesso vi facciamo vedere prima quelli piccoli e poi facciamo vedere quello che sembra un po il fratello di quello della settimana scorsa va bene tu stai fermo lì perché qua è un po ripido questo qua è il primo come sempre bello poi l'altro non so se lo vedete sono vicino si è nascosto bene si è nascosto bene ma abbiamo trovato lo stesso l'ultima che una bestia c'è l'ultima che una bestia l'ultima che una bestia si attenzione ragazzi questa è una bestia dopo come la facciamo vedere la bestia arrivo eh andiamo a vederla vicino lì che bestia un'altra bella padella un'altra bella padella al fuoco tienite filmite si prendo eh si porca miseria che dici ragazzi si bello madosca è veramente enorme questo forse ancora un po più grosso di quello della settimana scorsa si che ne dite ragazzi io dico che va bene così anch'io oh la la ragazzi un altro enorme porco adesso l'ho visto aspetta un po posiamo qua adesso l'ho visto ma che è è un po scomodo vado io eh tu aspetta amico arrivo subito io non lo vedo le attenziano per stare questi eh mi raccomando vado se vuoi venire vieni ci sei? eh no passa stai fermato aspetta lì aspetta lì questo qua è giù qua oh questo qua si è nascosto ancora di più vado un po' mangiato anche questo ma eccolo qua va bene ragazzi siamo contenti è vero Christian? si che dici? eh? tieno punto? si eh zanzare eh ci sono tante zanzare eh con l'umidità che c'è a mille però l'umidità ci sono mille aiuta anche i porcini a crescere è vero? si va bene con questo andiamo a posarli con i suoi fratelli come faccio? passo io passo io passo io aspetta tutto in fila la padella e due bei bocciolotti va bene ragazzi un saluto a tutti da me e da che mi aspetta eh? perché non riesce a passare l'aiuto eh? a venire in qua vi saluto ciao ragazzi ciao 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 ciao